...particolare per riproporre questa festa così importante. Quindi proporremmo una lettura dal poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, di come Maria Valtorta ha visto appunto la presentazione di Gesù Valtino, di Gesù Valtettio. E quindi sarà un bel momento, come abbiamo fatto anche in altre situazioni, per immergerci in tutta la atmosfera, appunto l'intopinale. Poi avremo anche alla sera un collegamento con la nostra cappella di Radio Colpe per un rosario con Don Umberto Dalligna, dove appunto sentiremo una meditazione sulla presentazione di Gesù al Tempio. In più nel pomeriggio avremo anche un collegamento per una diretta per gli amici di lingua tedesca che così festeggiano in modo particolare, non come facciamo noi italiani, così che tralasciamo troppo leggermente questa festa così importante. Loro festeggiano proprio la festa della Gandabora e avremo tre orette di diretta, questa sul nostro canale YouTube. Comunque avviseremo qualche giorno prima, con questo canale YouTube. Grazie a tutti.